Per rispondere alla domanda che mi viene posta sui rischi legati alla perdita dei posti di lavoro e alla stretta creditizia per le imprese, rispondo dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico che l'eventuale intervento dello Stato serve proprio ad evitare questi rischi. Il decreto che abbiamo varato l'8 gennaio 2019 crea le condizioni per essere pronti a salvare e tutelare i risparmi dei cittadini. Il risparmio degli italiani per noi è sacro ed è per questo che nella legge di bilancio abbiamo stanziato un miliardo e mezzo di euro per i truffati delle banche. Il nostro obiettivo però è fare in modo che simili casi non avvengano più. È chiaro ed evidente che se i cittadini metteranno i loro soldi per la risoluzione della crisi della Carige i responsabili di questo disastro, a partire dai grandi debitori della banca, dovranno essere resi pubblici e dovranno pagare le conseguenze dei loro errori. I risparmiatori invece non dovranno pagare, come accaduto in passato, le colpe e le inadempienze dei manager. A questi signori il Governo chiederà di restituire i megabonus che hanno incomprensibilmente incassato, visto il disastro che hanno combinato. Ricordo anche che in Carige negli ultimi tre anni, dopo il disastro della precedente gestione, oggetto di pesanti condanne in secondo grado, in attesa della Cassazione per il dottor Berneschi e i suoi collaboratori, si sono alternati numerosi presidenti e amministratori delegati, contribuendo pesantemente a rendere ancora più grave una situazione già critica. La verità è sotto gli occhi di tutti. Oserei dire che è il segreto di Pulcinella. La vecchia politica e le banche sono sempre andate a braccetto e Banca Carige non fa eccezione. Il politicante metteva un suo uomo nella banca e lui finanziava la qualunque, fregandosene dei danni ai risparmiatori e preoccupandosi del beneficio per il politico, per il partito e per la sua poltrona. Carige è una piccola MPS, ma nel territorio i danni non sono inferiori. Il problema è che alla fine non paga mai nessuno e non si dice mai chiaramente come stanno le cose. Ci c'è dietro la cortina di fumo dei nomi più o meno sconosciuti di amministratori e dirigenti. Quando invece per unire i puntini basta solo un po' di onestà intellettuale.